In ginocchio! Ok, avanti, tagliala! Tagliala, facciamolo! Ce li abbiamo in puglio! Magari c'erano le scale più affilate da qualche altra parte! Siamo ladri. Abbiamo aiutato la persona sbagliata a rubare la cosa sbagliata e abbiamo scatenato il male più grande che il mondo abbia conosciuto. I maghi russi hanno creato un esercito di non morti. Un posto bellissimo. Direi il contrario. Lo so, veramente ero ironico. Trovo che l'ironia sia una lama che colpisce maggiormente chi la brandisce. Non ti ammazzi di risate, vero? Come ci entriamo là dentro? Abbiamo bisogno di una squadra. Seguitemi all'orificio. L'orificio? Io vado per ultimo. Niente male. Mancati. Non ti sei stufato a fallire? Potremmo morire. C'è di peggio della morte. Ho perso tutto ciò che era importante per me. Se rinuncio ora sarà stato tutto inutile. Non voglio vederti morire. Motivo per cui uscirò da questa stanza. Ora sarà la fine. Stoppete! Il ponte è protetto da un'antica trappola gnomica. Non dobbiamo far scattare il meccanismo. Forse ho messo il piede sul... Io... Scusate. Forse ho messo il piede sul!